benvenuti su canale gossip elisabetta gregoraci al grande fratello vip 5 è sicuramente una delle protagoniste assolute la ex moglie di flavio briatore dovrebbe anche lasciare la casa nei prossimi giorni insieme a francesco oppini in quanto non convinta di voler restare fino a febbraio la realtà dei fatti però è che molte dinamiche della casa interessano proprio la subretto elisabetta gregoraci stata più volte al centro delle scena prima per l'amicizia speciale con pierpaolo pretelli poi per le varie liti con daiane mello selvaggia roma e giulia salemi nel bene o nel male questo grande fratello ha girato intorno a lei e la sua uscita potrebbe cambiare molte dinamiche a mattino 5 il fotografo andrea franco ha sganciato una bomba alla conduttrice federica panicucci che riguarda proprio la ex moglie di viatore la quarantenne avrebbe avuto una storia di una notte con filippo nardi prossimo concorrente a varcare la porta rossa durante la puntata di lunedì 7 dicembre l'avventura risale a circa 15 anni fa quando ancora la gregoraci non era sposata con flavio briatore il fotografo ha precisato che a differenza di altri ex della gregoraci che hanno detto anche cose intime ai giornali lui non vuole dire nulla e questo gli farebbe onore secondo la panicucci resta da vedere come reagirà elisabetta quando vedrà nardi sempre se lo vedrà perché la subretta come ormai pare certo ha intenzione di andare lì e questo potrebbe accadere già grazie per aver visto il video iscriviti al canale e lascia un like per supportare il lavoro